Ciao a tutti, io sono Gemma Contini, il mio blog si chiama Cheap is Chic, è un fashion blog che ho fondato ormai 5 anni fa e il concetto fondamentale che vorrei far passare tramite il mio blog è che la moda è a portata di tutti che per vestirsi bene non è necessario spendere un capitale ma che appunto ci si può vestire seguendo gli ultimi trend anche spendendo pochissimo il mio outfit è un comfy look perché appunto per passare da una sfilata all'altra è necessario anche essere comode quindi ho delle sneakers, delle platform sneakers, dei jeans a vita alta e una maglia a righe con questo rossetto sembra un po' un mimo è tutto ovviamente molto cheap, ho una vasta collezione di occhiali perché mi piace abbinarli sempre appunto al mio mood, a come sono vestita e quindi cerco proprio di scegliere quelli perfetti per il mio outfit come questi bianchi e neri che riprendono la maglia